Lei? Sì. Ciao Stefano. Ti piace? Pensa, me l'hanno detto che è un po' come l'ape maia, il mio amico. Allora, io ci devo prendere un po' un po' particolare. Per i nostri amici che chiamano il mentalismo, è un affiatto particolare. Carte tutte diverse, ok? Tu stesso che sei qua. Le vedo, sono tutte diverse. Ok? Poco da dire. Ultima cortesia, mescola le carte. Vai. Naturalmente io non mescolo come fai te da professionista. Io mescolo soltanto a livello normale. Ma stai mescolando? Mi si anche inceppano pure le mani, tanto per dire. Ma basta. Perché non sono pratici. Questo per far capire ai nostri amici che io non posso sapere le carte che ci sono qua. Certo. Perché tu le hai solo in mente, giusto? Esatto. E ci sono tutte carte diverse, giusto? Sì, sì. Tu ne hai una da pensare. Sì. Ce l'hai una? Ce l'ho già. Ok. Ora, io ti chiedo una cortesia. Tu stesso mi dici stop quando vuoi tu. Va bene. Tu stai pensando una carta, giusto? Sì. Stop. Ok. Io prendo la carta che tu hai pensato, ok? Cioè che tu hai detto stop, è posto più diversa. Sì. Che carta hai pensato? La devo dire? Sì. Proprio completa? Sì. K di quadri. Gira. Ma è incredibile. Scusa, lo solo pensavo. Non l'ho detto. Non l'ho detto. Lo sono pensata e mi tira fuori il capo di quadri, me lo tira fuori dal cervello. Cioè non ho capito. E questo ragazzo è un esperimento carino. Molto interessante questo. Andiamo avanti. Anzi è anche piacevole. mescolo le carte. Questo fa capire che tu stai manipolando le carte e stai mescolando le carte, giusto? Ok. Ah ma è inutile che magari qualcuno può pensare, io anticipo quello che può essere il discorso, che magari noi siamo d'accordo. Perché io sono appena arrivato e sto facendo un gioco perché tu me l'hai chiesto. E quindi io ti sto mescolando e posso dire che il mazzo è normalissimo, non sono uguali le carte e niente. Quindi ecco. quello qua. Guardi quello. Ora ti fai una cortesia. Io faccio quattro mazzetti. Sì. Ok? Sì. Tu puoi scegliere il più grande, il più piccolo, il più sottile. Quello che voglio. Quello che vuoi tu. Sì. Scegli. Tutto il mazzo scelgo. Un mazzetto che vuoi tu. Eccolo qua. Ok. Questo mazzetto lo puoi tenere o lo puoi scartare? Lo scarto. Lo scarto. Lo metto qua? Sì. Mettilo là. Sì. Non è proprio distante. Va bene. Scegli? Questo qua. Piace questo? Sì. Questo lo vuoi scartare o tenere? Lo tengo. Ok. Chiaro, chiaro mano a mano. Quindi scarti questi? Sì. Uno e due. Sì. Oggi tu stesso ti risulti insomma. Se mai stai risulti. Sì. Adesso tu stesso distribuisci le carte. Coperte? Sì. Coperte. E quando vuoi ti fermi una carta che vuoi. Così? Non sopra l'altra. Una sopra l'altra. Veloce. Un. Due. Tre. Quattro. Cinque. Quanto vuoi tu? Non puoi distinguere? Quanto vuoi tu? Sei. Sette. Mi fermo? Come vuoi tu? Puoi dare un altro lato di una? Vuoi metterla in una? Come vuoi tu? Fai quello che vuoi tu. Va bene. Ok. Bene. Lui ha una carta in mano. Sì. Io non voglio sapere niente. Sì. Tu hai una carta nera di picche. Tu hai il due di picche. Due di picche, signore. Interessante. Ma come facevi? Scusa. Come fai? Voglio dire. Se io dicevo dimmi. Senza riflettere. Ammettiamo che io avesse detto ipotesi. Mi fermo qua. Giusto? Non è più il due di picche qua. È la donna di qua. Tanto mi fa vedere anche ai telespettatori. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Dopo le riflessioni le facciamo dopo per fare un video a parte sulle riflessioni. Mi scorda le carte. Mi scorda le carte. Mi scorda le carte che non mai ripensano che io poi manipolo. quindi sono in colazione. Stiamo facendo tutto a livello molto casuale perché quando un mazzo è mescolato è davvero casuale. Sì. Per farvi capire come si può giocare con la psicologia, con i numeri, con il mentalismo. Giusto? Sì. Ecco qua. Ok? Prima ti ho fatto fare i mazzetti. Sì. Ti ricordi questo, no? Ora voglio farti fare di più. Ma molto di più. Cosa devo fare? Ora vieni tu stesso. Dimmi stop quando vuoi tu. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, Io sono arrivato a dieci. Ah, dieci allora. Facciamo di più. Facciamo di più. Tu stesso. Batti sul tavolo quanta volta vuoi tu. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ah, è già cambiato. Ho cambiato. Non vuoi più nomi di dieci? Sì. Sì. Così faccio vedere che è proprio una cosa completamente diversa. Quadri o cuori? Una bella insieme che ti piace. Cuori. Cuori. Sette di cuori. Giusto? Sì. Incredibile. Come possibile questa cosa. Io ho usato chiaramente preparato la carta di tu. Hai fatto tu? Eh sì. Mi hai cambiato tutto quanto, giusto? Sono rimasto infatti molto allibito. Hai mescolato due carte, giusto? Certo. Vai, mescolato ancora. Vai. L'ultima volta concludiamo. Vai. Stai senti su che vediamo bene. Questo per capire come si può giocare con la psicologia. Giusto? Ok. Ecco qua. Questa volta facciamo una cosa diversa. Io ti chiedo, tagli il mazzo. Ok. Scegli un mazzetto di due. Di due mazzetti? Sì. Questo. Ok. Non sono a forzatura. No, no, questo. Ora, tagli il mazzo ancora. E scegli un mazzetto che vuoi tu. Questo. Scarto. Questo è un scarto, va bene? Tu stai facendo, non faccio niente. Non ti voglio forzare. Adesso cosa devo fare? Ora, hai delle carte in mano, giusto? Sì, un pacchetto. Ok. Metti il taglio ancora. Ancora devo tagliare? Posa il mazzetto. E scegli quello che vuoi tu. Stavolta scelgo questo. E questo lo tolgo, giusto? Come vuoi tu? Bu, a posto. Sì. Sabe che puoi anche ritenere questo se vuoi? No, no, a posto, a posto. Sicuro? Sì, va bene. Ora, di queste carte, tu le apri e ne pensi una. Vai. Come tu vuoi? Ce l'hai? A posto. Io non posso sapere mai a posto. No, perché ce l'ho nel cervello. Giusto. Se ti facessi delle domande, non puoi pensare, mi hai fatto delle domande. Sì. Io provo una cosa incredibile. Io lascio qui tre carte. Sì. Io so che la tua carta è rossa per forza. Come per forza? Per forza rossa. Non potrei scegliere? No. E' rossa di carta. E' di cuore? Devo dire? No. Tocca la carta. Che carta era la tua? Asso di quale. Tocca la carta. Che cazzo? Come fai, Dio Santo? Scusate la parolaccia, ma come fai a indovinare se io ho toccato quello, ho toccato quell'altra? E' scarti pure, no? Capisco. Ho alta manipolazione. No.